Toscana Oggi, il settimanale alla radio. Papa Francesco, che ha fatto questa scelta molto particolare di andare nell'isola degli sbarchi dei clandestini, degli immigrati, quindi a Lampedusa lunedì. E poi contemporaneamente si dà conto anche della prima enciclica, la Lumen Fidei, che è appunto la prima testo papale che è dedicato alla fede. E sempre a proposito di Papa Francesco, domenica c'è anche l'incontro internazionale con i seminaristi, i novizi, le novizie in piazza San Pietro. Un incontro nell'anno della fede, un incontro dedicato al tema delle vocazioni. Allora su Toscana Oggi c'è un'intervista all'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, che è anche presidente del Centro Nazionale per le Vocazioni. Il titolo è «Ai giovani serve il coraggio di dire sì a Dio». Monsignor Castellani confessa che, a proposito delle vocazioni, la situazione è preoccupante. Gli ingressi nei seminari in Toscana avvengono col contagocce. C'è il vento, dice, di una cultura antivocazionale che ha investito tutto l'Occidente e quindi anche la nostra Italia. Continuiamo a parlare delle Papa con un articolo di carattere storico che spiega il perché il Vescovo di Roma è anche il Papa. È Giovanni Roncari, padre Giovanni Roncari, che è docente di storia della Chiesa alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, che spiega questo fatto. Fra l'altro tutti ricordano bene che nel giorno della sua elezione Papa Francesco ha sottolineato il suo essere, prima di tutto pastore della Chiesa romana. Padre Roncari spiega il perché di questo fatto storico. L'importante è ribadire che il Papa è Papa in quanto prima è Vescovo di Roma e non viceversa, come a volte si potrebbe pensare. E a proposito del Papa, dalle nostre edizioni locali segnaliamo anche sulla voce l'edizione pratese. In 800 dal Papa, ma c'è ancora posto. Si parla del pellegrinaggio diocesano che è previsto per il prossimo 18 settembre. Sono già stati preparati oltre 16 pulmona, sono previsti 800 fedeli. I pratesi hanno voglia di incontrare Francesco. Rimaniamo ancora in un tema vicino al Papa, anche perché ci stiamo avvicinando alla giornata mondiale della gioventù che si svolgerà, come tutti sappiamo, in Brasile. Lì ci sarà appunto l'incontro con il Papa. La notizia che riguarda la GMG la prendiamo dalle pagine della vita di Pistoia per dire che c'è la carica dei 100, ovvero il numero dei pellegrini giovani che parteciperanno appunto alla GMG in Brasile. Intanto nel frattempo c'è stato il cosiddetto mandato da parte del Vescovo Mansueto Bianchi nei confronti dei giovani che hanno ricevuto nei giorni scorsi in dono una piccola croce come segno concreto del legame con la diocesi. Da qui appunto l'invio verso la giornata mondiale della gioventù in Brasile nei prossimi giorni. E cambiamo completamente argomento perché il primo piano di questa settimana, le pagine 2 e 3 di Toscana Oggi, sono dedicate al terremoto, ancora lo sciame sismico che ha creato paura e disagi in una larga fetta della Toscana e in questo primo piano c'è un viaggio nei paesi più colpiti dal terremoto, un viaggio diviso in due tappe, diciamo così, si va a vedere quello che è successo e che sta succedendo in Lunigiana e in Garfagnana, che sono appunto le due zone più colpite, fra l'altro con un accenno anche al fatto che si è parlato molto della paura sulle spiagge della Versilia, cosa che viene vista anche con un pizzico di rabbia da parte degli abitanti invece di quei paesi sulle montagne della Garfagnana dove veramente la paura è stata forte, dove ancora i disagi sono grandi per i tanti edifici considerati ancora inagibili e invece appunto ci si è soffermati soprattutto sulla stampa su quello che avveniva sulle spiagge dove chiaramente invece i rischi erano e sono molto minori. E del terremoto si parla anche nelle cronache locali su Vita Puana, che è l'edizione della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, Lunigiana, lo sciame sismico, mette a dura prova le chiese. Sono molte appunto le chiese dichiarate inagibili dalle commissioni tecniche della Curia e del Genio Civile. Infatti Riccardo ricordiamo che le due zone che citavi in precedenza sono anche zone che appartengono a due diocesi distinte, la Lunigiana appartiene appunto alla diocesi di Massa Carrara e Pontremoli mentre la Garfagnana appartiene alla diocesi di Lucca e fra l'altro c'è stato proprio un incontro tra i due vescovi proprio per verificare la situazione in particolare delle chiese e anche domenica scorsa molte celebrazioni, molte messe sono state celebrate all'aperto per motivi di sicurezza. E cambiamo ancora argomento, si parla di eco-mafie a pagina 5 di Toscana Oggi e si scopre che la Toscana è sesta in questa classifica di legambiente, è una posizione non certo positiva. Qui è il crocevia della criminalità, questo è il titolo. Il capitale nero della criminalità secondo legambiente finisce nell'edilizia, negli appalti, nelle sale da gioco della Toscana e Camorra e Andrangheta sarebbero presenti anche nello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Non si pensa spesso alla Toscana come regione di mafia, invece è una presenza ormai importante, basta guardare anche i numeri che ci parlano di 596 sequestri effettuati in Toscana. E si parla sempre a livello regionale di una manifestazione organizzata dalla CISL, più che una manifestazione di fatto è una proposta di legge, c'è anche una raccolta di firme per quanto riguarda gli stipendi dei manager. Si dice infatti che c'è chi guadagna in tre giorni il corrispettivo dello stipendio annuale di un dipendente e si parla in questo caso in particolare degli stipendi che riguardano i manager delle banche. Invece con questa proposta di legge della CISL si metterebbero dei tetti, quindi ci sarebbe un limite massimo entro il quale devono rientrare anche gli stipendi dei manager delle banche e a questo proposito, come accennavo, viene fatta una raccolta di firme in tutta la Toscana. Si può firmare, ricordiamolo, in tutte le sedi territoriali della CISL oppure anche informandosi attraverso il sito cisltoscana.it. Si parla di famiglia invece a pagina 8, finte separazioni, è la prova che la famiglia è penalizzata. Un tema questo di cui Toscana oggi si è occupato spesso e già in passato, già nel 2011 aveva lanciato questo allarme con un articolo a firma di Andrea Bernardini, le false separazioni quando più del cuore conta il portafoglio. Questo era il titolo che il nostro settimanale fece allora per parlare appunto di questi casi in cui alcune coppie ricorrono al sotterfugio di separarsi per poter pagare meno tasse o per poter avere più punti nelle graduatorie che magari danno diritto ad alcuni servizi come asili nido o case popolari. Di questo appunto il nostro settimanale aveva già parlato, adesso il caso è scoppiato, diciamo così, anche a livello nazionale. C'è un'intervista a Roberto Bolsonaro che è il vicepresidente del forum delle associazioni familiari. E andiamo alle pagine di inventario che sono le pagine culturali di Toscana oggi. Due gli argomenti in primo piano oltre a tanti altri. Il primo riguarda una mostra, una mostra aperta fino al 31 agosto, anzi per l'esattezza le mostre sono due a massa e sono dedicate al cardinale Cibo Malaspina e soprattutto al suo mecenatismo. Dono di sua eminenza è il titolo della mostra che è in corso al Museo di Cesano di Massa e poi le carte del cardinale invece è il titolo della mostra che è ospitata nell'archivio di Stato sempre di Massa. E poi c'è una nota, sempre nella prima pagina di inventario, la cosiddetta copertina dedicata a Margherita H, quella che è stata definita la signora delle stelle, che come tutti sanno era fiorentina di origine e fra l'altro il suo modo di parlare diciamo che non lo nascondeva affatto, nonostante i tanti anni passati a Trieste aveva conservato questo suo modo particolare, questa sua cadenza totalmente fiorentina. Si parla in un fondo, in una nota di Marco Lapi, dei limiti della scienza. Tutti sanno appunto come l'H che rivendicasse il suo ateismo, però insomma la scienza diceva lei stessa, sviscera le cause piccole e grandi di quello che c'è, non lì perché c'è, non spiegano e potrà mai spiegare perché c'è l'universo, perché c'è la vita, insomma in qualche modo anche la atea Margherita H era aperta ad un minimo di mistero, quindi qualcosa di inspiegabile attraverso la scienza. Quindi questo grande personaggio che ha avuto anche momenti appunto di dibattito con il mondo ecclesiale, con il mondo della fede, però al quale va sempre riconosciuta una, come dire, sincerità ideale e l'essere anche attaccata a dei valori solidi come quello della solidarietà stessa e a questo proposito a volte citava anche il Vangelo per dire che la cosa più importante è amare il prossimo come se stessi. Quindi questo era un po' anche un suo modo di vita. E c'è un altro personaggio molto legato a Firenze che è scomparso in questi giorni, oltre a Margherita H e Stefano Borgonovo, il calciatore della Fiorentina, del Milan, della Nazionale. Molti lo hanno ricordato in questi giorni, anche il nostro settimanale, sulle pagine regionali con un articolo di Simone Spadaro e poi nelle pagine fiorentine, dove il ricordo si lega a un episodio particolare, ovvero sia la testimonianza davvero molto bella che la moglie Chantal Borgonovo venne a tenere nel 2011 quando parlò agli studenti delle scuole fiorentine in un incontro organizzato in occasione della giornata per la vita e la moglie appunto Chantal raccontava proprio la sua scelta di restare accanto al marito anche nella malattia condividendo tutto il dolore, le fatiche ma anche le gioie che continuavano insieme ad assaporare anche in mezzo a mille difficoltà. Quindi il ricordo appunto della loro storia come una bella storia d'amore. E ancora ritorniamo sulle pagine di inventario la parte culturale Toscana Oggi. Abbiamo detto che erano molti gli argomenti questa settimana oltre a quelli già rammentati segnaliamo un'ampia intervista a Umberto Cecchi che attualmente è il presidente del Teatro Metastasio di Prato però è stato per lunghi anni giornalista inviato direttore della Nazione. In questa intervista Cecchi racconta, oltre la sua vita appunto di giornalista, racconta Oriana Fallaci prendendo spunto da un suo libro uscito di recente e Cecchi che dice vi racconto Oriana libera e incompresa. E andiamo sulle edizioni locali del nostro settimanale iniziando da Firenze, dall'osservatore toscano che è il notiziario della diocesi di Firenze dove si torna a commentare la vicenda che ha tenuto banco in questi giorni lo scambio di battute tra il sindaco Matteo Renzi e il cardinale Giuseppe Betori e il nostro titolo è Mi preme solo il bene di Firenze Betori replica a Renzi con un tweet il riferimento è al discorso che il sindaco ha tenuto in Palazzo Vecchio in cui aveva parlato di un duro attacco politico ricevuto dall'arcivescovo e dall'omelia che l'arcivescovo ha tenuto nella festa di San Giovanni il cardinale appunto gli ha risposto su Twitter dicendo che la natura culturale, spirituale ed etica di quella omelia è sotto gli occhi di tutti. E rimaniamo sulle pagine locali Toscana Oggi andiamo a vedere la prima pagina della parola che è l'inserto diocesano di Fiesole e si parla della visita pastorale infatti appresso il Levia proprio in questi giorni la visita pastorale desidero ardentemente vedervi questo è il titolo che troviamo nella prima pagina Fiesolana e poi all'interno un'ampia in intervista al vescovo Mario Meini il quale spiega che la visita pastorale avrà il taglio della semplicità è importante mettere in evidenza la buona volontà e il coraggio e incontrerà così in modo molto aperto senza nemmeno un programma molto preciso molto stretto le singole parrocchie insomma in qualche modo saranno le parrocchie stesse ad invitare il vescovo lui le andrà a visitare anziché fare un programma come dire dall'alto c'è in qualche modo una richiesta dal basso quindi è ininteressante anche questa modalità nuova di affrontare la visita pastorale ricordiamo che in questo momento in Toscana sono già in atto altre visite pastorali a Firenze a Massa Carrara a Pontremolo e altre invece partiranno prossimamente ad esempio ad Arezzo e a Prato dicevamo all'inizio della rassegna stampa dell'intervista al vescovo Castellani che parlava della situazione preoccupante delle vocazioni dei seminari in Toscana però domenica scorsa ci sono state invece anche alcune ordinazioni sacerdotali ad esempio a Livorno dove la settimana appunto l'edizione Livornese di Toscana oggi titola siate martiri per amore si parla dei quattro nuovi sacerdoti ordinati da Monsignor Giusti nella festa dei Santi Pietro e Paolo ed anche sulla voce di Valdinievo l'edizione della diocesi di Pescia si parla di Don Fabiano ordinato sacerdote mentre da Lucca 7 prendiamo l'articolo che riguarda la giornata sacerdotale della diocesi di Lucca che si è svolta nei giorni scorsi a Via Reggio c'è stata una meditazione di Monsignor Renato Corti ed è stato ribadito un concetto espresso di recente anche da Papa Francesco il prete non sia triste ma sia segno di gioia e speranza quindi ecco un invito all'atteggiamento del prete ad essere questo segno di gioia proprio perché è la gioia che viene dalla fede e la speranza che viene appunto dalla fede stessa c'è un filo particolare a quanto pare che lega la Toscana con l'Europa orientale iniziamo da Arezzo Pellegrini in Bielorussia questo è il titolo si parla del pellegrinaggio appunto con cui una delegazione della diocesi di Arezzo Cortona e Sansepolcro rende omaggio ai 400 anni della Madonna di Budzlao Arezzo e la Bielorussia appunto unite dalla Madonna ci sarà anche l'arcivescovo Riccardo Fontana a Minsk e anche da Siena parte un pellegrinaggio diocesano alla scoperta della Russia cristiana la cittadella della pace entra nel cuore di Arezzo torniamo ancora sulle pagine di Arezzo Cortona Sansepolcro per dire di una serie di iniziative che riguardano appunto Rondine che ecco e molti sanno già perché abbiamo avuto occasione parlarne anche in questi nostri appuntamenti è una cittadella che sorge nei pressi di Arezzo e che mette insieme studenti provenienti dai paesi in conflitto vola Rondine questa è l'iniziativa fino a settembre una serie di eventi dedicati al dialogo e al confronto che avranno appunto come località di riferimento la stessa città di Arezzo su Vita Nova che è l'edizione della diocesi di Pisa si fa un bilancio del giugno pisano giugno mese di festa di celebrazioni per Pisa allora appunto si va a vedere cosa resta di questo giugno pisano e poi però c'è anche la presentazione di un'altra importante un altro importante evento che invece avverrà a settembre che è Anima Mundi musica per lo spirito è stata presentata ufficialmente la tredicesima edizione di questa rassegna musicale e come ultimo argomento di questo nostro appuntamento odierno parliamo di una mostra di una mostra abbastanza particolare che è quella di un pittore particolare o meglio conosciuto per tanti altri motivi ma forse ben poco conosciuto come pittore parliamo di Don Lorenzo Milani c'è una mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi a Firenze che è anche la sede della provincia con dei quadri una serie di quadri che erano considerati scomparsi o conservati insomma in qualche deposito e tanti altri disegni che aiutano a definire l'identità di questo loro autore Don Lorenzo Milani appunto la mostra si intitola Don Lorenzo Milani e la pittura dalle opere giovanili al santo scolaro ricordo che è in corso a Palazzo Medici Riccardi e nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del cardinale Giuseppe Betori il quale ha detto vedendo queste opere in queste opere si scopre la vocazione di Don Lorenzo questa dunque era l'ultima notizia di questa nostra rassegna stampa forse Riccardo c'è tempo per ricordare anche la possibilità del sito internet si su toscanaoggi.it la possibilità di trovare aggiornamenti quotidiani ma anche di sfogliare online le stesse pagine del settimanale e per il momento è davvero tutto appuntamento alla prossima settimana da Andrea Fagioli e da Riccardo Diggi un cordiale saluto Toscana Oggi il settimanale alla radio Grazie a tutti